Musica Hola Goodlier, benvenuto da Carlo Oggi iniziamo a descrivere uno dei componenti più importanti del computer La scheda madre Se sei sopravvissuto al superflusso di bit della lezione scorsa Ora ti trascinerò in un altro percorso ostico Nella descrizione dei componenti del PC La scheda madre o in inglese motherboard Che cos'è una scheda madre? È uno dei componenti fondamentali del computer La scocca, la struttura sulla quale verranno inseriti tutti i componenti e le periferiche del PC Tutte quelle periferiche collegate all'interno del computer Nell'arco dei vari anni le motherboard si sono evolute Oltre che in termini di prestazioni anche in base al numero di periferiche che possono supportare Quindi non si sono tanto ingradite in termini di dimensioni Quanto in capacità di supportare un numero sempre più elevato di componenti Questo grazie alla sempre maggiore miniaturizzazione dei computer La scheda madre si presenta come una scheda elettronica di dimensioni più o meno standard Che in base alla fascia di prezzo e alla tipologia di marca Garantisce una gestione di componenti e prestazioni più o meno elevate Qui abbiamo in figura una rappresentazione grafica di un'ipotetica scheda madre Come puoi vedere all'interno presenta una serie molto ampia di circuiti e componenti elettronici Saldati sulla stessa infatti potrai trovare molti componenti Quali resistenze, condensatori, transistor, led, spinotti di collegamento vari, circuiti integrali e vari ponticelli Quindi molti componenti che naturalmente sono di difficile comprensione Ovviamente lo scopo di questo percorso è quello di comprendere la struttura standard di un PC Quindi componenti interni e periferiche E non quello di sapere come funzionano i vari circuiti elettronici presenti all'interno dello stesso Scegliere la scheda madre può essere abbastanza ostico se non sei in grado di valutare le caratteristiche Per prima cosa dovrai decidere quale tipo di processore utilizzare all'interno del tuo computer Il processore lo conoscerà in seguito del percorso Ma sappi che è il cervello del computer e può essere costruito da due aziende diverse Intel e AMD Una motherboard può installare uno ed un solo tipo di processore Da riferirsi all'azienda produttrice Vedi Intel o AMD Una volta selezionata la famiglia del processore Quindi o Intel o AMD Dovrai scegliere il tipo di scheda madre che più soddisfa le tue esigenze In termini di prestazioni e prezzo Esistono in commercio molti tipi di fornitori di schede madre Quindi molti costruttori che progettano e costruiscono i loro prodotti In base al tipo di processore che installeranno Le stesse aziende poi potranno sfornare più di un modello di scheda madre In base alle prestazioni e quindi in base alla fascia di prezzo Come potrai scegliere un tipo di scheda madre necessaria alle tue esigenze? Beh, alcune di queste domande riceveranno risposta Grazie a un report dedicato che mi sono promesso di compilare nel medio termine Se devi però proprio acquistare una motherboard in questo periodo Premesso che tu abbia già scelto il processore o già lo possieda Posso dirti che tutto dipende dall'uso che farai della tua macchina Se utilizzerai il computer per eseguire operazioni Che la maggior parte delle persone effettua Come ad esempio navigare su internet Oppure scrivere semplici lettere O più genericamente eseguire operazioni di ufficio O ad esempio sfogliare delle foto Ascoltare musica Vedere video Scaricare dei file Puoi tranquillamente scegliere la scheda madre Che ad oggi è la più economica in commercio Questo fatto non per dire di spendere sempre e solo il meno possibile Quando andrai ad acquistare una scheda madre Ma oggigiorno i processori e le schede madre Hanno raggiunto delle prestazioni talmente elevati Che già la fascia più economica è sufficiente agli utenti non esigenti Tra l'altro spesso sopravvalutiamo le nostre necessità O peggio ancora ci lasciamo convincere dal venditore di turno Che Volpone approfitta della non competenza tecnica dell'acquirente Anche per questo non ti preoccupare In seguito arriverà una guida all'acquisto Un report speciale Che ti permetterà di scegliere un prodotto Abbastanza vicino alle tue esigenze reali E non farti acquistare un prodotto definito Dai parametri scelti dall'avvenditore Quindi un modo semplice di risparmiare dei bei soldi Per concludere questo primo approccio iniziale Ti cito le prestazioni della mia macchina Ossia il PC che attualmente sto utilizzando In modo da avere un margine di confronto Con le tue potenziali necessità Non metterti però le mani sulla destra Se non comprendi le caratteristiche ad oggi In futuro queste difficoltà spariranno Tu dovrai confrontare semplicemente Le caratteristiche della mia configurazione Comparandole con gli equivalenti prodotti Del computer da te scelto Le caratteristiche più importanti del mio PC Infatti sono Un processore della Intel Un dual core della serie E2180 Quindi due processori in uno La cui frequenza Quindi la frequenza di lavoro del processore È di 2 GHz E la cache, la memoria interna lo stesso È di 32 GB La schiera madre è dell'azienda ASRock Che permette di supportare Fino a un quad core di processore La RAM, che è la memoria presente All'interno della schiera madre È dell'azienda Eidata Technology La quantità di RAM installata sul PC È di 2 GB Che ha le caratteristiche Definite dalla sigla DDR2 La cui velocità di lavoro È fino a 400 MHz La scheda grafica È dell'azienda Anvidia Della serie GeForce 9400 Con memoria interna Pari ad 1 GB dedicata Questo è un valore Particolarmente importante Per far sì che La scheda non rubi Passami il termine Memoria alla RAM Presente all'interno del computer Come potrei verificare Le prestazioni non sono elevatissime Ma comunque con questa configurazione Riesco ad eseguire Molte operazioni Contemporaneamente Senza che il PC Tra l'altro si blocchi Ho testato questa configurazione Anche scaricando file E elaborando un video Ossia effettuando il rendering E il tutto ha reggito egregiamente Nella prossima lezione Continueremo a parlare In maniera molto più specifica Delle schede madri Non mi resta ora Che ringraziarti come al solito Dell'attenzione per stare Un saluto Ciao a presto Da Carlo Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto CSee